ciao dai calzini spaiati è la prima volta che mi mostro in questa location in questo anche formato perché ho deciso di dedicarmi con un po di costanza a una cosa che sapete chi mi conosce lo sa mi appassiona vorrei intitolare questa rubrica corrispondenze come forse molti di voi sapranno io sono una patita di lettere epistolari carte private degli autori perché sono convinta che siano un po le autobiografie più autentiche e soprattutto delle storie che ci permettono di costruire proprio il formarsi della personalità di un autore io come anche qui saprete sono appassionata agli autori italiani del secondo novecento e mi piace proprio cercare di ricostruire le loro biografie le loro biblioteche e anche la loro formazione di scrittori appunto attraverso questo tipo di testi ecco quindi che mi è venuta in mente che la parola corrispondenze andasse bene non solo per indicare un genere che quello dell'epistola che mi piace così tanto ma anche i legami che si creano tra le pagine private e quelle pubbliche degli autori che amo vorrei incominciare questa esplorazione chiedendovi di accompagnarmi nella lettura dell'epistolario di dino buzzati non si tratta dell'epistolario completo ma di uno scambio che buzzati ha avuto per quasi tutta la vita con il suo amico arturo brambilla questo epistolario incomincia nel 1919 quando dino buzzati ha appena 13 anni e in realtà lo accompagna lungo quasi tutta la sua vita e lungo la quale i due amici purtroppo si perderanno però quello che a me interessa in questa sede è farvi vedere come già a 13 anni ci fosse dentro queste carte lo scrittore che poi oggi amiamo e conosciamo buzzati c'è da dire che è un autore forse non conosciutissimo come meriterebbe e che molti associano a un amore che in realtà è la sua opera più diversa rispetto al resto della produzione che ha uno stampo molto lanciato verso il fantastico l'immaginifico tanto che buzzati è stato anche un illustratore un disegnatore e vedremo come tra queste pagine proprio si dà conto della sua passione per l'illustrazione già da giovanissimo già da giovanissimo scriveva un sacco scriveva filastrocche poesie piccoli poemetti e se li scambiavano con questo amico già da piccolo amava le montagne già da piccolo amava le illustrazioni e andava alla ricerca di libri illustrati quindi andava alla ricerca di libri non tanto cercando l'autore da leggere quanto proprio l'illustratore che poi aveva graficato quell'opera questo epistolario io l'ho recuperato ormai un paio di anni fa a roma in un negozio dell'usato non mi ricordo neanche esattamente quale però quello che io faccio di solito quando bazzico per mercati librerie dell'usato o semplicemente nei miei giri quotidiani su internet e andare proprio alla ricerca di lettere epistolari italiani è stato pubblicato questo nel 1985 da de agostini e non credo che da allora sia più stato ripubblicato la cosa bella di quando si trovano epistolari d'autore che incominciano quando gli autori sono giovani e che solitamente sono pieni di disegnetti o almeno questa è l'idea che mi sono fatta quando mi sono innamorata dell'epistolario di italo calvino in cui in realtà i disegnetti sono presenti quasi per tutto l'arco temporale della vita tra l'altro questa raccolta è stata curata da luciano simonelli e ha un interessante saggio introduttivo che proprio ci permette di allacciare dei filoni che io appunto cercherò di farvi assaggiare leggendo qualcuna di queste lettere intanto questo saggio ci dice chi erano buzzati e il suo amico arturo brambilla e ci dice subito che appartenevano a due classi sociali diverse ma che l'atteggiamento di buzzati che era quello che si trovava nelle condizioni economiche migliori era sempre di grande rispetto e generosità nei confronti dell'amico avevano la passione per la montagna la passione per la bicicletta la passione per la letteratura brambilla tra l'altro poi diventerà un docente di letteratura mentre buzzati proseguirà con la sua carriera di scrittore e soprattutto a partire appunto da questi primi interessi comuni si nota l'atteggiamento di buzzati di estremo rispetto per l'amico per esempio a proposito della bicicletta buzzati e brambilla avevano due bici molto diverse buzzati quella l'ultimo grido che gli permetteva di partecipare alle corse con gli amici e invece brambilla aveva uno scassone di seconda terza millesima mano quindi buzzati che faceva andava a gareggiare con gli amici quando brambilla non poteva uscire in maniera tale da non metterlo a disagio e molto spesso poi gli raccontava insomma queste avventure attraverso le lettere anche attraverso delle amorevoli vignettine come questa e non aveva mai un atteggiamento come volersi vantare delle sue imprese o delle meraviglie che poteva fare la sua bici ma anzi cercava sempre di raccontargli le disavventure infatti ecco qui ce n'è un'altra laura gli racconta di sgridate pazzesche di capitomboli e a un certo punto faccio subito un salto perché voglio leggervi un pezzetto divertente vediamo se lo trovo ecco per esempio nel 21 gli fa durante una lettera una lista di escoriazioni insomma di guai che si fa cadendo rovinosamente dalla bicicletta e dice sull'aura mi sono scappati i pedali la bicicletta è traballata il manubrio si è voltato impennandosi e io mi sono fatto 1 botta ed escoriazioni sulla tempia sinistra 2 l'acero rotondo di 5 cm di diametro sulla spalla sinistra della camicia 3 botta al gomito 4 12 tra piccole e grandi escoriazioni alla mano sinistra 5 6 grandi celle escoriazioni alla mano destra 6 una vaga escoriazione al ginocchio sinistro e un'altra passione che hanno in comune questi amici è la montagna e lui racconta appunto man mano che le vive anche delle scalate epiche hanno poi degli interessi letterari comuni come dicevo e dalle prime lettere che appunto sommariamente vi leggo si vede come alternassero letture di scuola e letture di piacere e fossero affascinati da autori fantastici e appunto da illustratori voglio farvi vedere una cosa che poi riportata anche in copertina e cioè questa i due amici erano appassionati di egitto e avevano creato una specie di codice di geroglifici e si scambiavano proprio dei messaggi disegnando questi geroglifici e le loro fascinazioni principali tra gli scaffali della biblioteca del padre di buzzati partono proprio da libri che raccontano l'egitto che raccontano la storia dell'arte quindi già questo ci fa capire come l'interesse di buzzati fosse da subito visivo non solo di scrittura quindi non era affascinato solamente dalle parole ma tantissimo delle immagini la cosa curiosa è proprio che lui si mette alla ricerca di volumi illustrati seguendo lavori diversi di uno stesso illustratore che gli interessa e quindi iniziando quel percorso che poi avrebbe proseguito per tutta la vita di ricerca sia letteraria sia appunto figurativa perché appunto buzzati era un disegnatore vi leggo la prima lettera che subito da dall'idea di di quale sia il tono di questo epistolario dino buzzati scrive a milano è il 7 novembre del 1919 quindi buzzati a 13 anni e dice così caro brambillino io oggi sono dispiacentissimo di doverti dare un'orrenda notizia oggi c'è un concerto di un celebre violinista e la mamma perché studio il violino vuole che vada e disegna anche violinetto io in fondo del cuore preferisco avere la tua compagnia e andare insieme a te in bicicletta che andare al concerto ma la mamma vuole per consolarti almeno in parte dall'immenso dolore ti prometto che appena posso andrò con te in bicicletta più che posso ma il destino ci perseguita prima te ammalato ora io non posso quel violinista sapendo del nostro appuntamento non avrebbe potuto mandare il concerto a un altro giorno ti mando perché tu non mi serva alcun rancore un amuleto egiziano antico autentico sperando che tu con me sia sempre l'amicissimo col cuore spaccato tuo dino ecco l'amuleto che lui gli manda per cercare di farsi perdonare per l'assenza andando avanti la lettera immediatamente successiva dice ho comperato il primo e il secondo libro della giungla un'edizione bellissima con delle figure bellissime e forti e tremende il racconto è di una originalità senza pari e tra un racconto e l'altro il kipling poi ha scritto molte poesie in uno stile strano e orientale e molto bello kipling dickens sono i primi nomi letterari che ricorrono in questo epistolario ma soprattutto incomincia uno scambio di libri illustrati che buzzati scopre e vuole raccontare all'amico quando ovviamente si trovano lontani per esempio il 2 marzo del 1921 scrive all'amico di aver trovato un libro che è un'edizione di sogno di una notte di mezza estate con delle illustrazioni e qui cerca di riassumere tutta quella parte iconografica che accompagna il volume e che tanto lo affascina quindi cerca proprio di descrivergli com'è questo volume e gli riproduce in miniatura tutti gli elementi delle illustrazioni che trova e si scambiano anche pareri di racconti di paura libri di avventura e quindi questi sono i primissimi interessi che caratterizzano il formarsi della personalità di scrittore di buzzati io vorrei leggervi anche un piccolo componimento poetico che buzzati invia all'amico e che è riportato nell'introduzione i due amavano scrivere poesie si scambiavano le loro opere poi si scambiavano anche dei pareri su quello che avevano scritto e questo insomma mi piace leggervelo perché è una cosa molto molto acerba però dall'idea della degli interessi di buzzati e in particolare in questo caso parla proprio del suo amore per la montagna il componimento infatti si intitola la canzone alle montagne montagne che siete belle purissime nelle albe violacee frementi negli arrossati tramonti i vostri picchi strapiombanti sulle nevi eterne io amo i vostri ghiacciai silenziosi vorrei stare tra i giganti i giganti di rocce che vanno nel cielo i frementi giganti che cantano le silenziose canzoni dell'infinito i giganti che ascoltano le cupe leggende dei ghiacciai venute come uno strano mormorio dal seno dei crepacci profondi montagne divine che nulla è più bello regine della libertà e dell'infinito pinnacoli superbi contornati dall'eterne nevi le pure vostre rocce fremono fremono tutte al sole che ci batte le bianche vostre rocce luccicando scintillano cantate nelle notti guglie vertiginose mentre sembrate alla luna bianchi magri fantasmi di ghiaccio siete belle montagne siete la cosa più pura più sublime io vorrei stare tra voi nei dorati tramonti di sole quando tutto si cinge di rosso io vorrei stare tra voi nelle albe azzurrine e velate io vorrei stare tra voi sulle rocce sui ghiacci i meriggi sotto al limpido sole voi siete sole montagna con le montagne nell'alto nemmeno un misero sterpo di verde avete nemmeno un umile bianco e del vice vellutato qualche anima udace vi tenta qualche solitario camoscio vi calca e voi coi secoli che passano immobili a tutto al vento all'acqua alla tempesta resistete sempre uguali gli stessi dirupi nelle gole precipitano sempre uguali le stesse pareti riflettono il sole e questa è una cosa che buzzati ha scritto all'età di 13 anni quindi sulla scia di questa meraviglia io vi saluto sperando di avervi incuriositi e di avervi fatto così lanciare un'occhiata in questa raccolta che se avete modo di procurarvi all'usato vi consiglio vivamente di comprare ci vediamo al prossimo incontro di corrispondenze ciao dai calzini sbagliati